Scena terza, regia Giuseppe Aquino, Ciac si gira! Azione! Alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! 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 Ciao, ciao! Sono felati, tutti i rag balm d'arte lance. Sì, e poi davvero un sable a me ma vorrei farla di là nu dove mi sono, mai al sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti.